Oh, Amoni, non sai com'è papà? No, com'è papà? Eh, un po' antico, ma non è cattivo. Non è cattivo, è un po' antico, ma papà non è cattivo. Sei andato a scuola, sei contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sei contare? Sì, so contare. E sai camminare? Sì, so camminare. E contare, camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, conto e camminare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei. Oh, forza, conto e cammino. 99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sotano ci abita qua. Cento passi ci sono da casa nostra, cento passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te. Salutiamo Zutano! I mi ossegui, Peppino! I mi ossegui, Giovanni! E invece sono loro i padroni di Cinisi. E mio padre, Luigi infastato, gli lecca il culo come tutti gli altri. Non è antico, è solo un mafioso, uno dei tanti. È il nostro padre. Mio padre, la mia famiglia, il mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Io voglio urlare che mio padre è un lecchiacolo! Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi. Prima di abituarci alle loro facce. Prima di non accorgerci più di niente! Prima di non accorgerci più di niente!